Ieri si è svolta nella palestra di Via Guacimani la seconda lezione pratica del corso gratuito di autodifesa per donne organizzato da Confartigianato, Donne Imprese e da Linea Rosa. Dopo tre lezioni teoriche, ieri le 25 imprenditrici di Confartigianato hanno imparato alcuni esercizi di Kraft Maga. Confartigianato, Donne Imprese collabora già da tempo con Linea Rosa e quindi questo è un ulteriore incentivo a lavorare assieme e a fare qualcosa assieme. L'idea è nata dal nostro Consiglio Donne Imprese della provincia di Ravenna, è stata una cosa fortemente voluta proprio dalle mie colleghe del Consiglio e quindi abbiamo pensato di contattare Linea Rosa nuovamente per fare un'altra iniziativa assieme come abbiamo già fatto in passato e per venire in conto anche le esigenze delle nostre donne, anche perché come sappiamo le ultime recenti indagini dell'Istat dicono che da statistica le donne che hanno un lavoro autonomo o artigiano hanno una percentuale altissima di violenza subita dai mariti o dagli uomini. Quindi forse anche questo è stato un segnale che hanno voluto dare alle nostre donne per essere vicine alle nostre imprenditrici per dare la possibilità di fare questo corso di autodifesa per il quale ringrazio sia Confartigianato ma ringrazio anche Alessandra Bagnaro di Linea Rosa con la quale abbiamo sempre avuto un'ottima collaborazione e rapporto di amicizia e che spero che questo potrà andare avanti. Noi cerchiamo di dare quantomeno alle donne e alle ragazze che partecipano ai corsi una autovatorizzazione di se stesse un grado di consapevolezza di quello che possono essere in grado di fare se sono oggetto di un'aggressione di tipo fisico e in questo percorso di addestramento pratico partiamo dalla capacità di muoversi, la capacità di avere equilibrio, la capacità di generare forza dopodiché facciamo un certo tipo di tecniche per riuscire a vincere un'aggressione tipo una presa ai polsi, una presa alla gola che sono quelle più classiche che poi sono prodromiche e eventualmente ad altre tipologie di aggressione sette lezioni chiaramente sono un'apertura di una porta verso un percorso che ogni donna può poi decidere di continuare nella maniera in cui riesce a capire che qualche cosa lavorandoci si può fare per acquisire un grado di sicurezza nel poter uscire dalla violenza. Oggi seconda lezione pratica, ci sono state però tre lezioni teoriche molto importanti appunto per Ligna Rosa. Sì perché i nostri corsi di autodifesa sono stati pensati e voluti proprio nell'ottica di fornire degli strumenti alle donne e delle capacità di prevenire eventuali pericoli. Per noi il pericolo maggiore è quello che si presenta nella abitazione civile perché i maltrattamenti e le violenze sono prevalentemente in ambito familiare, quelle che vengono registrate dal nostro centro antiviolenza. Quindi di che cosa abbiamo pensato di fare? Di fornire alle donne quella intanto conoscenza del fenomeno e quindi per noi sono essenziali le partecipazioni alle tre incontri propedeutici di teoria dove spieghiamo che cos'è la violenza, in quali forme viene agita, quali sono le sintomatologie, il ciclo della violenza. Questo perché è importante che ci sia la consapevolezza prima di tutto. Noi ci siamo resi conto che le donne arrivano al centro antiviolenza quando le violenze sono fisiche molto gravi, quindi già perpetrate nel tempo, ma alla base ci sono anni e anni di violenze psicologiche. Quindi è importante saperle riconoscere anche da parte delle donne stesse. Quindi dicevo un corso di formazione che dia la sicurezza alle donne non tanto sulla pubblica via perché non escludiamo che possano esistere anche degli episodi o accadere degli episodi di aggressioni da sconosciuto sulla pubblica via, però quella consapevolezza maggiore, quindi quella capacità di fronteggiare è un'esperienza che possa essere in qualche modo di un'aggressione e quindi la parte teorica tratta proprio del nostro centro, delle dinamiche e invece quella pratica ci dà quella possibilità anche fisicamente di prevenire episodi similari.